Cosa sono gli impianti dentali? In termini semplici, un impianto dentale è una vite in titanio che sostituisce la radice di un dente perso e stabilizza un dente, una protesi o un ponte. Imita la funzione naturale della radice di un dente e si fonde con l'osso mascellare tramite un processo chiamato osteointegrazione. Gli impianti dentali offrono vantaggi come la sostituzione fissa dei denti persi, l'eliminazione di apparecchi rimovibili e il ripristino della masticazione e dell'estetica. Sono solitamente fatti di titanio, un materiale altamente biocompatibile, e inseriti cirurgicamente nelle ossa macellari. Ci sono vari tipi di impianti dentali, come impianti singoli, ponti e protesi, con materiali diversi come la zirconia o ceramica avanzata. Gli impianti dentali rappresentano un modo per gli operatori sanitari orali di avere un impatto significativo sulla salute generale. Clicca sul link sottostante per una consulenza con un nostro dentista di MDX. Saremmo lieti di guidarti e rispondere a tutte le tue domande. Sono il Dr. Buck, MDX, per la gioia, per la vita.